La Toscana è la regione più sobria d'Italia, ha detto l'assessore regionale alle finanze Vittorio Bugli durante la seduta del Consiglio regionale in cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018. Innovazione, rigore dei conti e investimenti sono le linee guida per la gestione di una regione che continua a contribuire al risanamento delle casse dello Stato e che ha messo in programma per il prossimo anno spese per 9 miliardi di euro, di cui quasi 7 riguardano la sanità e investimenti per 410 milioni di euro. Potremo continuare con questo bilancio a finanziare le grandi scelte che abbiamo fatte in questi anni, dai grandi investimenti su Livorno, su Piombino, il raddoppio della forrovia fra Firenze e Lucca, ma anche gli impegni stessi sull'aeroporto e sulla Tirrenica. A questi possiamo finalmente partire con una delle più grandi opere pubbliche che abbiamo da portare avanti nei prossimi anni, anche lì primi in Italia, cioè l'investimento sulla banda ultralarga su tutto il nostro territorio regionale. In tutto, assicura Bugli, mantenendo alta l'attenzione sui servizi sociali, la scuola e la cultura, trattando con il governo per ottenere altri finanziamenti e portando avanti la riorganizzazione interna avviata dopo la riforma delle province. Dal 2018 gestiremo direttamente anche i centri per l'impiego, un grande impegno ma anche una grande sfida, perché in questa carenza di lavoro che continua a esserci i servizi per l'impiego devono avere, come dire, bisogna rilanciarli, bisogna rafforzarli e come regione ci stiamo a giocare anche questa sfida, a prendersi una responsabilità, ma una responsabilità per migliorare i servizi in un settore così delicato che riguarda tante persone. Non si può dire che il bilancio è terrestre, c'è il bilancio è terrestre.